Misurare le KPI di qualunque processo aziendale è uno degli obiettivi che ogni imprenditore deve avere all'interno della propria organizzazione. Tueppi ricordiamo che è lo strumento di lavoro di ogni risorsa, pertanto abbiamo una base dati immensa a disposizione di informazioni che ci permette di ottenere KPI su qualunque tema che riguarda la mia organizzazione. L'assegnazione degli incarichi, lo stato di avanzamento delle pratiche, il numero di ore di lavoro versate per un determinato cliente. Bene, tramite la funzione di reporting aziendale ho due possibilità di analizzare i dati. La prima in forma del tutto automatica, ovvero ci penserà Tueppi, allora da voi stabilita, a riportarvi tramite una nota quelle che sono le informazioni che voi volete misurare quotidianamente, mensilmente, settimanalmente. Oppure tramite delle funzioni manuali e tramite la possibilità, andando sotto un determinato cliente, di richiedere quanti sono state le ore di lavoro versate dai vari operatori. Ma vediamo un po' come viene strutturato un report. Allora, tramite una nota viene recapitato un report, in questo caso un report sui miei processi commerciali, sulle opportunità aperte, all'interno del quale riesco a vedere differenziate per tipologia le offerte aperte, per priorità, a seconda della tipologia in quali fasi si trovano, piuttosto che andare a vedere quali sono appunto gli operatori che stanno in quel momento lavorando sulle diverse opportunità. Altresì, operatore e operatore, posso vedere quali sono le opportunità che hanno loro in corso, andando poi a poter rappresentare tramite dei grafici, piuttosto che analizzare ancora più dettaglio, tramite il foglio Excel che viene messo in allegato su qualunque tipo di report. Tramite la pratica chat posso poi discutere con le singole persone dei report, oppure far ricapitare ad ogni uno degli attori presenti all'interno del report la sua parte di reportistica, potendone poi discutere in maniera molto semplice nella chat allegata. Altresì, un altro esempio, voglio ricevere quante richieste sto ricevendo dal sito internet settimanalmente, quindi giorno per giorno, alla determinata ora, il sistema mi riporta quanti sono le richieste che sono arrivate, magari distinguendole per regione del potenziale cliente, dettagliandomene in maniera estremamente precisa giorno per giorno, piuttosto che le ore che vengono erogate da ogni singolo operatore giorno per giorno per i vari clienti, potendone così misurare quello che è l'effort che la mia organizzazione sta mettendo sulle fasi consulenziali o sui servizi che sta erogando. Il reporting rappresenta quindi la vera soluzione all'esigenza che ogni impresa ha di poter misurare le KPI di processo.